Da oggi è fuori i fratelli d'Italia? Ma io aspetto di vedere che cosa fa Adriana Polibortone, non mi esprimo diciamo, spero sempre, le faccio da questo punto di vista un appello accorato dell'ultima ora, perché non si prestia un'operazione strumentale che serve ad alcuni per saldare i conti interni a un partito sulla pelle della destra italiana, sulla pelle dei propri alleati che farà vincere la sinistra, coalizione, quella capitanata da Adriana Polibortone, nel caso in cui non si riuscisse a ricomporre questo quadro, il rischio è di arrivare terza e penso che per la storia di Adriana Polibortone questo non sia adeguato, penso che lei meriti molto di più e che sbaglia se si fa strumentalizzare. L'accordo in questo momento non c'è.